oggi si cambia si può si può vivere più semplicemente un esempio oggi se l'amministrazione non rispetta i tempi per la conclusione di una pratica paga l'impresa che si rivolge all'amministrazione in ritardo e non riceve una risposta ha diritto a un indennizzo per ogni giorno di ritardo si è il decreto del fare fai valere i tuoi diritti per aiutarci a semplificare partecipa alla consultazione online grazie